Se non c'è speranza per il mondo, perché continuare? Non l'ho visto il mondo. Non puoi saperlo. Lottiamo per la famiglia. E io non ne faccio parte? No. Tu sei solo merce. Perché sei così importante? Da qualche parte ad ovest. Lavorano a una cura. Vogliono sapere perché non mi sono trasformata in un mostro. Se mostrasse anche solo un tic. Smichina. Va bene. Se ti porto con me, farai quello che ti dico quando ti lo dico. Hai qualche consiglio per arrivare vivi a ovest? Sì. Andate a est. Siete arrivati fino a qui. Quindi sapete cosa c'è là fuori. Non riuscirai a spaventarci. Lui è spaventato. Il tuo scopo è più grande di quanto potessimo immaginare. Fa attenzione alle persone in cui credo. Non sarai suo padre, ma di qualcuno lo sei stato. Ti fidi di me. Non riuscirai a spaventare. Grazie a tutti.